buongiorno a tutti ragazzi oggi siamo qui con un nuovo video è iniziata l'estate inizia il caldo e quindi pesca e stione i carpodromi e oggi ragazzi sono qui per presentarvi tre galleggianti di Preston Innovation per questa specifica tecnica di pesca ovvero la carpe in estate e quindi andiamo a vedere un attimino come sono fatti come si usano quando usarli e perché usarli ovviamente ma prima di tutto voglio ricordarvi innanzitutto di iscrivervi al canale perché ragazzi mi supportate tantissimo e inoltre riuscite a rimanere aggiornati a tutti i nuovi video e poi voglio ricordarvi che questi galleggianti ma tanto tanto altro anche tutto quello che vedete è in vendita presso il nostro negozio online spediamo in tutta Italia con ottimi prezzi quindi andateci a dare un'occhiata in particolare questi galleggianti sono offerti a un prezzo secondo me molto interessante vi lascio sotto il link in descrizione per andarle a vedere ma non perdiamo altro tempo andiamo subito a vedere come sono fatti ok ragazzi eccoci qui i tre galleggianti che voglio presentarvi oggi sono questi tre qui come vi dicevo all'inizio ovviamente per pesche gravose adesso li andiamo a vedere innanzitutto perché e perché vanno utilizzati prettamente d'estate io direi di partire prima da questo e poi andiamo a prendere gli altri due che sono magari un pelo più specifici allora ragazzi questo qui è un galleggiante un pochino più all round è di casa preston come potete vedere si chiama carp xs pole in questo caso le misure sono 4 per 12 sono le misure inglese perché ovviamente sono fatti per il mercato inglese però logicamente ci sono poi dopo tutte le varie tabelle di conversione non vi preoccupate cosa qui la particolarità è che abbastanza lungo quindi diciamo è consigliato in acque profonde quindi diciamo che già secondo me dai due metri e mezzo in poi questo qui è un galleggiante molto molto interessante forma affusolata molto molto sensibile anellino spero si veda è quello particolare che è la novità diciamo uscito da parecchio tempo però molti lo stanno adottando che è questo anellino che si va ad agganciare direttamente all'asta che va poi dopo anche dentro l'antenna e quindi la rende super super robusta non ha il filo passante però vi garantisco che è estremamente robusto deriva in fibra di vetro anche questa per per evitare rottura accidentale super robusta e l'astina è cava praticamente il primo la prima parte cava poi dopo rinforzata dall'astina che ci sale dentro galleggiante secondo me molto molto interessante per pescare magari con pellet ma anche mais bigattini questo che è un galleggiante che secondo me se pescate non proprio sulla pecca quindi già magari dai sei metri in poi o comunque quando trovate dei fondi magari appunto come dicevo prima da due metri e mezzo e oltre questo qui diventa super interessante perché appunto la forma lo rende super sensibile ha un'astina molto molto larga e quindi si vede davvero bene poi c'è un colore particolare che purtroppo in video non rende ma si vede davvero davvero benissimo potete tenerlo proprio tarato a bolla che questo si vede davvero davvero bene ovviamente pensato principalmente per una pescata sul fondo questo non l'ho specificato però vista la lunghezza come potete vedere un galleggiante abbastanza lungo non è proprio il suo la pesca galla proprio per questo voglio passare al secondo galleggiante che è un pochino più indicato per la pesca galla questo qui come vedete spero si riesca a leggere questo qua è l'f1 shallow sempre di Preston ovviamente la fattura è molto simile quindi astina in questo caso è molto più piccolina che è cava alla punta quindi portante con la l'asta che poi dopo si va ad inestare per il rinforzo anche qui anellino che si aggancia poi la deriva e quindi super robusto deriva corta il galleggiante ragazzi tutto qui corta in carbonio e questo qui direi che è perfetto per una pesca galla ma una pesca galla in generale nel senso che si può utilizzare per pescare a galla con dei pellet non troppo grossi bigattini mais questo qua secondo me è un galleggiante molto molto interessante per una pesca galla all round perché va bene anche per i carassi ma è super robusto va benissimo anche per le carpe nota è disponibile la dimensione 4x8 che corrisponde più o meno a uno 0x08 quindi riesce ad andare anche sotto i 0x10 grammi e questo qui lo trovo interessante anche per fare la pesca margin quando proprio si deve pescare proprio a ridosso della sponda proprio con qualche centimetro d'acqua questo qui interessante perché come dicevo galleggiante galleggiante molto corto c'è anche la versione super leggera non è troppo diciamo fastidioso per i pesci che poi vengono a raccattare l'esca proprio sotto la riva questo qui principalmente lo consiglio per una pesca galla ecco non lo vedo troppo indicato per pesche sul fondo viste le grammature ma anche perché appunto ha una fattura secondo me principalmente pensata per la pesca galla può essere usato ovviamente per una pesca anche a mezz'acqua magari andrei su una grammatura un pelo più più pesante con magari uno 0x20 però anche questo galleggiante che io utilizzo molto anche in inverno non lasciatevi fuorviare però questo qui anche magari proprio inverno inverno no perché magari i pesci a galla d'inverno non vengono però una pesca di ricerca autunnale o primaverile con qualche pesce a galla questo galleggiante qui è molto secondo me indicato e ora voglio passare all'ultimo galleggiante che personalmente è uno di quelli che vado ad utilizzare di più che è il carp shallow questo qui lo utilizzo tantissimo perché lo vedo super indicato per fare la pecca pesca che in estate si fa tantissimo ma questo qui è un galleggiante che lo trovo molto all round perché volendo essendo un galleggiante guardate abbastanza corto bene o male è più o meno della stessa lunghezza di quello che abbiamo visto prima si presta molto bene per delle pescate a galla impegnative nel senso che se dovete fare una pesca a galla a battere con magari anche pelle da 8 mm questo galleggiante qui secondo me è molto molto indicato perché è un'astina più grossa sempre ovviamente con punta cava e deriva dentro a rinforzo e a parte la visibilità che vi è un galleggiante che con queste estine si vede davvero benissimo deriva in fibra di vetro e in questo qui in più ha anche il filo passante quindi ragazzi galleggiante super robusto dato per pesche super gravose e come vi dicevo prima anche per pescare gala con esche molto grosse o pesci davvero davvero impegnativi questo qui è un galleggiante che io utilizzo tantissimo secondo me l'avete già visto anche in qualche video perché queste l'estate scorse l'ho già utilizzato e quindi mi sento davvero di consigliarve quindi ragazzi andiamo a vedere un pochino tutti e tre assieme ok ci siamo come vedete hanno questo disegno tutto nero con le varie scritte e tra l'altro lo vedo molto elegante personalmente mi piace mi piace abbastanza e questo qui è il trio dell'ave maria io praticamente in estate ultimamente sto utilizzando solo queste tre tipologie ovviamente sono disponibili nelle varie grammature principali per per coprire tutte le varie pesche questo qui ovviamente è disponibile anche in grammatura un pochino più elevate arriva fino a 0,75 un grammo mentre questo qui per pescare gala invece è grammatura un pochino più più ridotta appunto per per permettervi di pescare gala con galleggianti super leggeri e niente ragazzi questo è tutto io direi di passare alle conclusioni finali e ci vediamo subito perfetto ragazzi abbiamo visto i galleggianti nel dettaglio fatemi sapere magari con un commento qui sotto che cosa ne pensate se vi piacciono se li proverete o se magari voi utilizzate galleggianti differenti io li sto provando mi trovo davvero molto bene soprattutto perché sono super robusti e quindi non ho paura davvero di tirare di niente anche quando magari si slama il pesce sono sono super affidabili ma soprattutto perché si riescono ad adattare a varie tipologie di pesche magari appunto viene fuori una pesca che non avevamo programmato tiri fuori dalla cassetta delle lenze una lenza con questo galleggiante so che bene o male può andar bene a quasi tutte le evenienze sicuramente sono galleggianti principalmente pensati per la carpa quindi per pesce impegnative pesche impegnative però comunque sono molto all round ecco e bene o male visto anche il prezzo proposto secondo me sono molto molto interessanti io ragazzi per oggi è tutto come sempre se avete domande lasciatemele qui sotto che siamo felici di rispondere ve l'ho già detto anche all'inizio del video ma iscrivetevi per seguire tutti i video di adesso ovviamente anche quelli che usciranno e vi ringrazio come sempre alla prossima